Presidente, fra due mesi apriranno i saloni a Milano, potrebbe descriverci brevemente cosa si troverà la città? Beh, la città ci auguriamo si troverà 330.000 visitatori, di cui 70% dall'estero, quindi attenti alle novità del salone ma anche attenti alle novità della città. I cantieri in città stanno crescendo, si sta sviluppando un nuovo skyline. Ci auguriamo che i visitatori di quel periodo apprezzeranno quello che stanno vedendo. I saloni, così come Cosmit, così come Federlegno, sono sempre più vicini alle nuove generazioni. Potrebbe dirci qualcosa riguardo al progetto dei social network? Beh, il social network è, come si sa, un modo di comunicare soprattutto dei giovani, appartiene alle nuove generazioni. Noi pensiamo che dobbiamo utilizzarlo per avere colloqui con loro, quindi un mezzo per comunicare loro le novità del salone ma anche un mezzo per ricevere da loro una serie di informazioni, di richieste, di necessità, tenerne conto per poi cercare di esaudirle. Quindi le premesse per un'edizione di successo ci sono tutte? Ma le premesse per un'edizione di successo ci sono. Non fosse altro che il numero di visitatori è molto alto, il salone è al completo, non c'è più un metro libero, quindi tutto questo induce all'ottimismo. Certamente tutto quello che ci circonda, la situazione di insicurezza economica del nostro paese, dell'Europa e in genere di tutto il mondo, certamente non può che indura un po' di prudenza. Attenzione anche verso i mercati esteri a questo punto, nuovi mercati? Beh, soprattutto attenzione ai mercati esteri perché sin quando la nostra vecchia Europa non ha trovato accordi economici e direi qualcosa di più ideale, è difficile pensare a una ripresa dei mercati nel nostro continente e quindi bisogna guardare altrove, probabilmente con grossi investimenti, con grossi sacrifici, però il nostro settore è abituato a farlo.